Ciao Willy, attenzione sono qui con i miei amici, andiamo a scoprire un UFO vero, amici, andiamo, andiamo, amici. Guarda l'UFO, guarda l'UFO, si stanno per prendere, si stanno per prendere, quelli, quelli ne stanno per prendere, guarda l'UFO, guarda l'UFO, guarda l'UFO, guarda l'UFO, guarda l'UFO, mamma mia, chiudi, chiudi, chiudi.